Ciao a tutti ragazzi, io sono Desi e faremo un nuovo video dalla Lego qua come vedete avete visto da qua fuori, adesso ve la faccio vedere la lista e no, ci sono gli uomini pure che trovano, ho fatto cadere pure l'ombray lauder qua c'è un secchiello, qua c'è un divano, qua la varigetta per andare al lavoro poi ci sono tantissime altre cose di qua qua c'è un bar, qua c'è un bar e qua c'è un negozio che ve lo faccio vedere dall'interno bene, a questo punto possiamo, questa è una macchina questi sono gli uomini di ieri come potete mostrare questa l'ho fatto mio papà per lo star, quell'altra l'ho fatta io questa l'ho fatta papà, molto bella comunque, questa l'ho fatta io, non lo premo piccolino, questa è una macchina dell'amnizia, tipo quella di ieri e questa l'ho fatta anch'io si attacca pure da questo dietro vedi? si attacca pure da questo dietro è bellissima la mia macchina che ho costruito si attacca pure ok, poi vi faccio vedere tutta qua c'è il treno, quello di ieri e ciao a tutti cliccate davanti al divano per vedere i video di ieri cliccate davanti a me per vedere un altro video iscrivetevi al canale qua ciao 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 ciao